Nel 2017 ho scritto il libro Affare nel Marketing Formula, nel quale mostravo quali sono le nove fasi che occorre creare e sviluppare per una strategia di marketing. Bene, te le voglio mostrare in questo video qui da una lezione tratta dal percorso formativo imprenditivo. Ciao e benvenuta o benvenuto in imprenditivo. Io in questa lezione ti voglio mostrare le nove fasi del sistema del funnel marketing. Quindi un sistema di funnel marketing, abbiamo parlato di tanti sistemi, tanti processi che ti aiutano in modo diverso ma se ci pensi alla fine arrivano sempre lì di aiutarti a creare un tuo sistema di marketing. Ne ho parlato in questo libro qui, Funnel Marketing Formula, la seconda edizione ha questa grafica, nella prima edizione erano schemi di diverso genere, manuali, ma il concetto rimane sempre quello. In questa lezione te ne parlo in modo tale che tu possa a livello strategico sempre migliorare il tuo sistema di marketing. Sono nove fasi di cui quando ragioni devi un po' pianificare la tua impresa. La prima chiaramente è la fase di analisi iniziale. È la fase nella quale siamo in una fase di pre-funnel dove iniziamo a analizzare, a progettare quello che è tutta la comunicazione che faremo dopo. L'abbiamo visto nei big five, nei cinque elementi fondamentali che devi analizzare. Bene, questa esattamente è una fase di analisi. Il secondo elemento è gestire il traffico che può essere o controllato o non controllato. Il traffico controllato è il traffico su cui tu porti traffico attraverso le ads, il payment e così via. Il traffico non controllato invece è quella forma di traffico che è tipo il SEO, il viral marketing, contenuti virali, che ti permette social, che ti permette di essere visibile, dove le altre persone condividono o altri sistemi ti mostrano, ti fanno vedere, ma non è controllato. Questo traffico, in un modo o nell'altro, arriva in fase magari di opt-in in pagine per arrivare poi al bridge marketing, quindi a creare dei ponti. I ponti possono essere, una volta che tu hai acquisito determinato traffico o comunque database, devi iniziare a connetterti con le persone attraverso dei ponti che possono essere lunghi per il traffico freddo, ponti più brevi per il traffico magari medio, ponti più cortissimi, dove c'è magari una semplice email sul tuo database, ponti molto caldi, ponti molto brevi. Fino ad arrivare chiaramente alla list building, quindi la fase nella quale raccogliamo sempre più le email che vengono portate all'offerta. L'offerta è una fase importante, qui attraverso le nostre pagine, attraverso le nostre azioni possiamo vendere e lo facciamo attraverso poi una scala di valore, dove abbiamo magari più offerte, più funnel nel nostro processo. Da qui una parte le persone potranno accettare le tue offerte, potranno entrare nel referral marketing, quindi cercare di promuovere ultimamente altri porti e servizi, oppure no, che vuol dire entrare dentro un Empathy Flow. Quindi un concetto di contenuti legati da dove erano entrati in fase iniziale, proprio per essere in linea con quello che erano le loro esigenze. Quindi entrare in empatia con un flow di contenuti, quindi un flusso di contenuti da dove erano entrati. Per poi arrivare all'analisi di KPI finali che ti riportano da quelle iniziali durante questo processo qua. Queste sono nove fasi che devi implementare nel tuo marketing e nel tuo business per poter creare un tuo sistema di funnel marketing. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere alcuni video che pubblichiamo. Mentre se vuoi provare Imprenditivo, che è il posto unico dove trovi tutte le informazioni per poter far crescere il tuo business, bene, clicca sul link che trovi nelle descrizioni.